3, 2, 1, via! Allora, per il Stasi Club noi facciamo una bellissima sciabolata! Et voilà! Tutto per voi, signori! If you want better, you're a mission! Praga, è data Praga! E' due giorni che siamo in dritto, non ne possiamo più, però siamo venuti e sia chiaro! Ciao ragazzi, siamo qua in diretta dalle scimmie per il compleanno del Bongo! Yeah ragazzi, c'è anche qua il nostro amico Manuel questa sera, la Luana, la Luana ragazzi!